Buongiorno a tutti, 7 e 10, qualche minuto in ritardo secondo la solita scaletta ma sempre qui su Crystal Radio, sempre qui con Good Morning Milano, buongiorno a tutti, buongiorno Lorenzo Buongiorno, buongiorno Fabio e buongiorno a tutti gli ascoltatori di Crystal Radio Buon mercoledì 8 novembre, tanti auguri alla mia mamma, oggi sono compleanno Ah, tanti auguri, tanti auguri, tanti auguri, ah, va bene, no, no, perché tanti amanti Ah, spero di no, spero di no, spero di no, forse era la canzone sbagliata, va bene Buongiorno a tutti, allora come va? 3, 3, 1, 7, 8, 5, 3, 5, 5, 5, questo è il nostro numero di whatsapp Scriveteci, fateci sapere come va la vostra mattinata, condividete con noi quello che vi va di condividere e anche quello che non vi va, non so, se volete, la vostra colazione, tutto, tutto, tutto Potete tranquillamente chiacchierare con noi questa mattina, sempre qui, come sempre, su Crystal Radio Ma anche dove? Ma anche sul profilo di Milano All News, su Youtube, se ci volete vedere, ci potete vedere proprio lì Comunque noi siamo in FM, 96.2, streaming sul sito e sull'app e basta, e basta Ovunque comunque, basta perché non hanno inventato nient'altro Eh, infatti, infatti Anche nelle vostre stampanti 3D, non so, se vi stampate un piccolo Lorenzo da tenere sul comodino Così la mattina vi dice, good morning Mi scala 1 a 1 L'autoironia è una buona cosa Comunque adesso si parte, si inizia con la musica e poi con le notizie, poi gli ospiti Insomma, una grande mattinata, come sempre, piena di tanto succo, no? Tanta polpa Tanta polpa Tanta ciccia Tanta ciccia Ah, qui ce n'è di ciccia, soprattutto dito questo microfono Ciao a tutti, dai, adesso cominciamo, eh, vai, un po' di musica ACDC ACDC, high grade to hell 7 e 14 minuti, Crystal Radio Siamo qui, non vi preoccupate Al 331 7853 555 Ci scrive Alberto, che dice buongiorno Fabio e Lorenzo E a tutti gli ascoltatori Già temevo che oggi non foste in onda Invece no, 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 ci siamo, ci siamo Siamo qui, siamo qui, siamo qui Ci stavamo preparando per la diretta Prima abbiamo avuto delle discussioni Siamo picchiati un po' fuori onda Se ci vedete, se mi vedete Tu me fatti Tu me fatti E poi grazie anche per gli auguri Che fanno auguri alla mamma di Fabio, grazie E anche all'amico Giorgio Che fa gli anni in quest'oggi Quindi auguri anche a Giorgio, amico di Alberto Quindi auguri a tutti Auguri a tutti Per chi tanti amano No, non ho sbaglio canzone Ho visto che Vorreste cantare quell'altra Feliz, David No, anche quell'altra Come no, dopo Sono scongelato Maria Carey Possiamo cantare quello che vogliamo di Natale Ho capito, ma non per fare gli auguri Ah, ok Non per fare gli auguri Perché Feliz, cumpleagno E Jack Feliz, cumpleagno Non so, mi piace la canzone lì La vorrei Anche al mio funerale Vabbè Sì, così Per lasciarvi con allegria Beh, anche io ho quest'idea qua del funerale Vero Dov'è? In che paesi si fa? Non boh, non boh Beh, no Faccio conto che ad esempio C'è la band di Goran Brigovic Sì Si chiama Weddings and Funeral Band Quindi mi penso Cioè è il momento di Sia il funerale Non so se è perché tristi tutti e due O perché felici tutti e due Non lo so O perché deve arrotondare molto Ah, oppure sì Perché è buono per ogni occasione Battesimi Prediciottesimi Matrimoni Funerali Tutto quanto Visto che siamo in tema di compleanni Momento almanac Almanacco del giorno di oggi Nati in questo giorno 88 anni fa Alendelon Alendelon Virna Lisi 87 anni fa E più recente 57 anni fa Gordon Ramsay Il famoso Cuoco Di Ice Kitchen Ah sì Quello che spacca tutto Che lancia tutto Quello che ha fatto scuola In quella roba lì Che poi gli altri un po' Diciamo Ce l'hanno un pochino copiato Dai Penso Io adesso non ne ho idea E non lo voglio sapere Sì Però penso che sì La prima edizione di Masterchef Sia inglese E di Gordon Ramsay E quindi sostanzialmente Quello che ha indicato La strada Sì Sì Alle varie incazzature Di Bastianich Dopo Masterchef Credo Prima c'è stato Massisti Prima Masterchef Tutto Comunque Nati sportivi Nati sportivi Cioè sono nati già sportivi Così Nati sportivi È nato già col baffo In questo caso Sandro Mazzola Ah Indimenticabile 81 anni fa Scomparsi oggi Fred Bongusto Buongusto Quattro anni fa Solo quattro anni fa Cavolo E Umberto Veronesi Sette anni fa Già sette anni Vedi come le cose cambiano In base alla percezione Che ognuno di noi ha Bongusto pensavo fosse Successo lustri fa Invece solo quattro anni fa E invece Veronesi Che sembrava successo ieri Già sette anni passati Quegli avevano Veronesi Grande scienziato Grande ricercatore Grande Anche nella sua umiltà Di aver fatto una fondazione A suo nome Quando era ancora in vita Questa cosa mi ha sempre colpito Questa cosa mi ha sempre colpito Questa cosa mi ha sempre colpito Però è grandissimo Ha fatto tantissime cose Veramente Portando l'Italia Come sempre Nella grande eccellenza Della scienza Che siamo capaci di fare Subito dopo Il prossimo break Parleremo un po' Della mobilità Di ieri sera Visto che c'era la partita Ah ma no Non sono l'unico Che si è accorto Che è successo di tutto Ieri sera Ah ok Comunque meno rispetto A quello che pensavo Ah pensa a te Pensa a te Io ho rischiato Di arrivare tardi al cinema Per colpo della partita Prima di parlare Della mobilità di ieri Parliamo di quella di oggi Anzi di quella all'istante Grazie alla redazione Now Non now and then Now and now Luce verde Elodie Farispenti La sua mente è criptica La tua? La mia è molto molto semplice Ah non è criptica No Non è criptica Ah si scherza invece Sì Parliamo di Abbiamo sentito Luce verde Come sempre ci dà Delle bellissime notizie Sul fatto che staremo bloccati Nel traffico a Milano Invece ieri sera Che è successo? Ieri sera come sapete Piccolo recap Due sere fa Come sapete Benissimo Sono successe In Sono successe Sono successe Delle violenze Sono cadute Delle violenze In zona Navigli Tra i tifosi del PSG E i tifosi del Milan Adesso piano piano Si sta ricostruendo Un po' tutto Si tratta di un agguato Sì no Sembrerebbe di sì Perché ho letto Che qualcuno In zona San Siro Ha chiamato La polizia Perché ha visto Radunarsi Per una quarantina Erano cinquantina di persone Con bastoni e manganelli Che probabilmente Erano i tifosi del Milan Che si stavano dirigendo Verso i Navigli Il fatto sta che ieri I tifosi del PSG Sono stati in giro Per Milano Tutto il giorno Avete visto le foto In piazza Duomo Con i fumogini Eccetera Tante tante persone E poi Successivamente Sono stati scortati Da Duomo A San Siro Come voluto Dalla Dalla questura Dalla questura E sostanzialmente E questo ha creato Non pochi disagi Invece ai cittadini milanesi Che si sono visti Chiudere il corridoio Che collega L'8M1 All'8M5 Treni dedicati Eccetera Tutto questo Per evitare degli incontri Con la tifoseria milanista Cos'è successo? Io non vorrei dire però Una volta Quando si faceva lo scortamento Così Si faceva a piedi Cioè Altro che con i mezzi Cioè Partiva da Croso Andava giù Però c'era il corteo Che passava Tu li bloccavi dentro Alla sburra la metropolitana Non possiamo neanche usare Evidentemente era più complicato Sostanzialmente Però piccoli accenni Di tafferugli Ieri sera In zona stadio Ma Con il dispiegamento Delle forze di polizia Come si legge Mai prima d'ora Per una partita Si è evitato Lo dico grossa? Si E' voluto tutto questo casino Da chi? Non posso dirlo Ma da chi vuole spostare lo stadio No Secondo me si invece L'ho detta grossa L'ho detta grossa La querina la prendo io Questa volta Ma me la prendo volentieri Guarda questa volta No secondo me c'è un disegno Sotto un pochino Perché boh Non si è mai visto Niente del genere Ultimamente Sembra di tornare Agli anni 60 70 Ma dipende Gli hooligans Ma da quando? Dipende dalle tifoserie Non lo so Non lo so E quando ci si muove Per la Champions Si potrebbe gestire In maniera diversa Comunque ripeto Non è successo Quello che si temeva succedesse Quello che ci dicono Che potrebbe succedere Appunto E questo è il problema Adesso ho detto Papare papare Se la prima Si accoltellano sui navigli Sui navigli Non a San Siro E per fortuna San Siro non succede nulla Vuol dire che magari Non so Qualcosa funzionava Volevo pensare male Come diceva Che pensare male Si pensa bene Si fa peccato Ma non si sbaglia Ok va bene Comunque va bene Mi prendo la responsabilità Di quello che dico Dico al direttore della radio Se mi ascolto Vabbè non è che hai dato Dello scemo Gianluca Grignani Gianluca Grignani Con Falco a metà Gran pezzo E ci introduce anche Nella seconda Mezz'ora Di trasmissione Che inizia sempre Comunque Con Le notizie Giusto Lorenzo Esatto Inizia con le notizie Piccola Cioè Nota di Oddio Nota di colore È un parolone Però Una cosa un po' particolare Ho letto Stavo Ero qua con i giornali E ho letto Un titolo di Milano Today Tra cinque giorni Roberto Formigoni Sarà libero Ecco Scontata la pena Per corruzione Mi piace questo Countdown Fatto sul giornale Domani sarà un articolo Fa quattro giorni Sì sì Fa tre giorni Però lo citiamo Giustamente Perché comunque Si tratta di un ex presidente Dell'ex presidente Di regione Lombardia E quindi è giusto citare Che fra cinque giorni Appunto Sconterà la sua pena E si candiderà All'eropera Dici Bella domanda Adesso partono Tutti In lizza per l'Europa Eh sì sì Lui aveva Non credo Ma aveva fatto Un piccolo Ma quasi quasi Ma secondo me Dopo queste cose qua È molto facile Che Se nessuno lo prende Lo tira in causa Secondo me Si dedicherà Ad altro Ad altro Privato Poi quello che fece Mora Quando Mora è uscito Dalle scene Almeno Più o meno Almeno Chissà quanto è contento Che lo paragoni Nelle more Roberto Formigoni No Ho detto Chissà se è fiero Di essere paragonato Nel tuo cervelluccio Non ho paragonato Però dico Associato Mora per esempio È uscito Ed è Si è ritirato dalle cose Anche recentemente Ho visto un'intervista a Mora In cui diceva che Aveva finito Non mi ricordo per cosa Ah forse sulla vicenda Corona La cosa divertente È che l'ha letta in un'intervista Quindi comunque è rimasta A fare sempre interviste Come una volta Ma Rimaniamo in tema Di Celebrità Si Perché dopo Eleonore Casalegno Dopo Flavio Briatore Anche Conrado Tedeschi Ieri Denuncia Un tentato Furto In pieno centro A Milano Ma sono arrivati Al tentato Neanche Al furto Al tentato Si al tentato In zona Sambabile In via Durini Cosa è successo Più o meno La stessa cosa Di Briatore Lui era seduto in macchina E hanno bussato Senza autista Senza autista Presuppongo E hanno bussato Al finestrino Da una parte E dall'altra Hanno tentato di aprire La portiera Per prendere La borsa Lo zainetto Quello che era E Quindi sostanzialmente Anche lui Si è rivolto Direttamente Ai suoi follower Ha detto Io questo video Lo sto facendo Per mettervi in guardia Su questa cosa Da qua Per chi non lo sapesse Innanzitutto Salite in macchina E chiudetevi dentro Poi se vi bussano Al finestrino Non aprite Per nessuna ragione Perché dall'altra parte C'è uno che apre La portiera Per entrare dentro Per cui lo faccio per voi Mi raccomando State attenti Questa è la città Quindi un'altra Città in cui lui Posso confermarti Perché l'ho visto ieri sera E' a teatro Nei prossimi giorni Si Ma io più volte L'ho visto Corrado Tedeschi In zona Duomo Quando ero lì In una famosa manifestazione Milanese Mi sembra un po' Sputare nel piatto In cui si mangia A volte Va bene Grazie Corrado Per averci messo l'allerta E per averci ricordato Che dobbiamo chiudere Le sicure della macchina Credo ci siano Dall'81 Le sicure della macchina La 127 Miramma C'era già la sicura Quindi va bene Però insomma Continuare a far vedere Cioè non lo so Questi video di testimonianza Ci possono anche stare A me è una cosa Che Non è che dà fastidio Però fa sorridere Che venga sempre Sempre Comunque specificato In pieno centro In zona sanbabile Ah sì Giusto Io lo dico chiaramente Io sono molto più sicuro Nella mia periferia Che secondo molti È degradata Rispetto A zone centrale di Milano Io quando esco Sono molto più sicuro In Bovisa In Delga Nel quarto giaro Dove mi capito Certo 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 Dipende l'orario Certo Dipende l'orario Però in quelle zone Che spesso vengono definite Periferiche Abbandonate Eccetera Eccetera Piuttosto che in Duomo Perché tutta quella quantità di gente Ovvio aiuta A delinquere Non so come dire Ma anzi attira Anche il delinquente Esatto Cioè se devi andare a rubare Un portafoglio Dove vai? Vai a Bovisa dove c'è solo tu Che cammini con 5 euro Da portafoglio O vado in Duomo O vado in Duomo dove c'è tutti i turisti Che c'è un portafoglio A organetto Come si dice da queste parti E poi chiaramente Non volevo dare dei consigli Su come andare a rubare Portafogli Il fatto che venga specificato Zona centro Cioè Non vuol dire Se la zona è ricca Perché se facessi La stessa cosa Successe la cosa a me La faccio Da San Siro La risposta è Vabbè ma sei a San Siro Capito? Non è vero Eh lo so che non è vero Ma è questo La sottotraccia Come dire no? La sottotraccia La background music Questa qui Ti capi? Eh sì No L'uniche Diciamo situazioni In cui Cioè Percepisco della sicurezza in giro In Duomo In zona centrale E quando E quando passano gli Ari Krishna No E quando si vanno C'è la committiva Di studenti Che vada Alle metro Quello che è Sono quelli che ti rubano il cappellino Che ti chiedono una merendina Ma al massimo Ti vendono lotta comunista Ma sei rimasto indietro No 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 Tu sei rimasto indietro È vero Ho visto che ci sono ancora Ho visto che ci sono ancora E lottano insieme a noi In questo caso Come si dice proprio È vero È vero È vero Tra l'altro l'ho visto Proprio qualche settimana fa Non mi ricordo Sulla scrivania di chi C'era una copia Appena stampata Di lotta comunista Ma pensa a te Sono ancora in giro No fuori dall'università Ci sono ancora Ci sono ancora Non credo fuori dalla cattolica Non credo Magari Cercano di Una conversione Capito? Un po' come Come San Paolo Convertiva Loro fanno la conversione Al contrario Andiamo avanti Calcutta Due minuti E tantissimi applausi Da Calcutta Per la sua Due minuti E dal pubblico Di Cristian Radio Per Lorenzo Masieri Addirittura Addirittura sì Perché guarda Al 33178 53555 Arrivano i primi Whatsapp Della giornata Tra cui Marilena Che ci dice Ieri in San Babila C'erano i ragazzi Che vendevano Mi piacevo Il giornale comunista Mi piace Il giornale Con molto disprezzo Marilena No c'è un punto esclamativo Anche quindi non lo so Magari L'otta comunista Carlo Monguzzi A proposito di comunisti Radio Carlo Monguzzi Carlo Monguzzi 15 ore fa Su Facebook Posta 7 novembre 1917 L'incrociatore Aurora Inizia la rivoluzione Si sta parlando Della rivoluzione russa E lui commenta Questa immagine Con Scritto Bellissime idee E valori Quelle che le hanno portati avanti Hanno rovinato tutto Hai capito Quindi Monguzzi Non Non tradisce La sua Natura Da rivoluzionario Ma dice Chi ha portato avanti Quei valori Però poi ha tradito Tutta quanta La baracca Lo pensi Cioè Cosa Non Chiediamo No 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 Un momento All'opinione Di Molte persone Lo pensano Tranne quelli che adesso Sono impazziti Cioè adesso Si vedono Adesso si vedono Tante persone impazzite Anche sulle televisioni pubbliche Che portano avanti Un tipo di Di pensiero Sicuramente Anacronistico Rispetto ai tempi Cioè Sei come il cavaliere Vedi comunisti ovunque Che tu No Non li vedo Si autoproclamano Così Però Fuori dal tempo Veramente Fuori dal tempo Come il questionario Nei tre giorni Come diceva Morgan Tra parte si Ristirei sotto a vedere Il documentario Su Gaber Molto ben fatto Forse un po' troppo Nostalgico Cioè Molta nostalgia Il problema grosso È che l'abbiamo paragonato Sia io E chi è venuto con me A vederlo Al documentario Visto qualche mese fa Sugli annacci Uscivi dal documentario Sugli annacci Pieno di vita Sorridente E felice Quando esci da questo Insomma Anche solo Basti pensare Che appunto Una degli ultimissimi Canzoni Di Giorgio Gaber La mia generazione Ha perso Ed è Una roba Insomma abbastanza Un mea culpa Della sua generazione Che poi in realtà È interessante sentire Come gli intervistati Reagiscono A questa sua provocazione Tra cui Bersani Che fa un momento Secondo me Di teatro Per Luigi Per Luigi Bersani Anche in questo documentario Da un articolo Scritto proprio Da Gino e Michele Su una rivista Della rivista Di Sbivoranda Gaber la legge E da lì Prendono spunto Insieme a Luparini L'altro autore Insieme a Gaber Per scrivere appunto Destra-sinistra Certo Oggi domani Un altro film Infatti Sbagliate Scusa Lugendì Marte E di mercoledì Sì E poi non uscirà Da nessuna parte Non è che c'è scritto Continua su Non lo so Non lo ha detto Quando ci sono questi film Evento Non lo so Poi gli annacci Non so se è uscito Tra la cabata Un film evento Anche lui Non so se è uscito Tra la cabata Bisogna sempre Tipo all'inizio Chiaramente Se tipo È finanziato Dai Rai Cinema Con le robe lì Mi aspetto Che prima o poi Magari finisca Questo qui Era finanziato Mi sembra Da Rai Cinema Ma c'erano un po' di tutto In realtà Adesso che ci penso Un po' di burrì Di produttore Sì Mancava solo il tuo nome C'era pure quello Durano di più A volte ci sono due serie Durano di più I titoli di testa Con una produzione di Piuttosto che poi Il film a volte Comunque Se vi capita Questa sera Molti cinema di Milano Lo stanno facendo Quindi Io comunque Un giro me lo farei Non vi aspettate Di vedere Il grande Colossal Però insomma È interessante Ecco Un momento ricco Per il cinema Perché E tra l'altro Tutti i film italiani Tra parentesi Piccola nota margine Tu in questo momento Starei pensando sicuramente Alla Cortellese Perché insomma È anche a Fabino È anche a Fabino Ma è Cortellese Che avevano un grande successo Con il suo film Questo documentario È fatto dal marito Da Cortellese Quindi insomma Che ho pensato Pensa che Che periodo però Un po' Non si sono mai visti In questo periodo Ebbene Uno è in giro Per fare la prima del suo Quell'altro È in giro Per presentare il coso Chissà quanto si viene Insomma Saranno felici E faranno l'amore Contenti Quindi auguri Auguri a Cortellese No C'è una figlia femmina A Cortellese Che si chiama Laura Sai perché? Sei informatissimo Sai perché? No Perché la figlia di Laura Parosini Si chiama Paola Sono state Quasi insieme Sono molto amiche Laura Parosini e Cortellese Sono state incinte Quasi nel stesso periodo Se non ricordo male Con questo fatto Che l'una si chiama Laura L'altra si chiama Paola Sì E vedi? Interessantissimo Cosa scopriamo Cosa scopriamo Aprendo la pagina Delle curiosità Irama Rkomi Shablo Hollywood That's all funky That's all funky Irama Rkomi Shablo Questo è Hollywood Che chitarrina funky C'era lì Dovremmo fare una mattinata Mettendo solo funky Adesso parlo con Parlo con il diretturo E vedo se ci dà questo permesso Un po' di Un po' Certo Dopo un po' Vabbè dopo un po' Il funky Che sei? Antonio Albanese Bravo Bravissimo Dopo un po' Il funky Un po' come Già citato Bregovic No come? Anche lì Sei come io Strettesi Che c'è la sua Con la musica balcanica No vabbè Giustamente C'è la musica balcanica Dopo un po' Comunque Ritorniamo Su una delle Notizie Che abbiamo affrontato Recentemente Infatti vi ricordo E vi invitiamo All'andare a recuperare L'intervista A Matilde Minella Del comitato Novasca Di qualche giorno fa Sui nostri social Riprendo questa notizia Perché oggi Alle 10 E 30 Ci sarà un presidio Straordinario Che ci aveva già annunciato In diretta Ma lo ricordiamo Visto che si tratta Di Due o tre ore Davanti al parcheggio Del cimitero Di Bruzzano Appunto davanti All'ingresso del cantiere Saremo presenti Per chiedere Spiegazioni A tecnici Ingegneri AMM Riguardo A collaudi Ed è entrata In funzione Anticipata Della vasca In assenza Di un dettagliato Piano di pulizia In tutto questo Anche il sindaco Di Bresso Fa un post Molto particolare Che leggeremo dopo Hai un minuto Per leggere il post Il post Il post Il sindaco di Bresso Simone Cairo Ho potuto visionare La vasca del Seveso Da un condominio Limitrofo di Bresso Ma come E già questo Ti fa capire Un po' Che è la situazione Surreale Qualcuno mi dice Che la vasca È stata riempita D'acqua Dal sottosuolo Mi chiedo Come possa essere Già di questo Colore marrone Il fondale Era sporco E pieno di terra E non è stato pulito Già dal primo uso Non puliscono la vasca Iniziamo bene Assessore Granelli Ecco Scontro istituzionale Quindi Ti piace come è detto Scontro istituzionale Bresso contro Milano Come finirà? Lo scopriremo Dopo la pausa A dopo Adesso di Depeche Mode John Lennon Con Imagine Ci introduce Nella seconda ora Di Good Morning Milano Buongiorno a tutti E a tutti quelli Anche che sono collegati Solo in questo istante 331 7853 555 Il nostro numero di Whatsapp Se non l'avete capito Perché con tutte le R Che ci sono Magari non capite Cosa dire Lo ripete Lorenzo Masieri 331 7853 555 Comunque Se invece Non l'avete capito Neanche Lorenzo Masieri Nell'app C'è il pulsantino Che schiacciate Siamo direttamente Whatsapp Grazie Riprendiamo con le notizie Perché pochissimi giorni fa È arrivato Yes Milano City Pass E tu dirai Che cos'è sto Yes Milano City Ho paura di Impaginare cosa sia Lo dico così È comune Perdonami È la classica Perdonare loro Per chiamare una roba Yes Milano È la classica App Diciamo qua Io leggo il comunicato Che apre le porte Della città Ai turisti Un nuovo strumento Che promuove L'offerta culturale Museo di attrazione E trasporto pubblico Per tre giorni In un'unica chiave digitale E io dico Evviva Perché sono contento Io no A me piace Perché va bene Ma prima dovresti fare l'app Che apre la città Ai cittadini Vabbè il fascicolo L'unica app che abbiamo Qual è il fascicolo cittadino Dove vado a vedere Le multe L'Atari Gli obblighi L'aria B L'aria C Qual è questa? Comune Sto guardando in camera Per gli amici della rata Comune Il fascicolo del cittadino È da rivedere Appure vedi? Capito Neanche da rivedere Pensa te Quindi vedi te Il fascicolo del cittadino È un'app Da rivedere Quindi Funziona così Però Yes Milano City Pass È quindi Questa È la classica App Diciamo Delle Grandi città Quando vai in una grande città Anche europea Cosa fai? Ti scarichi l'app Vai sul sito E Guardi Se c'è la classica Tesserina Che ti permette Di sapere Del servizio Del trasporto pubblico Musei Abbonamenti vari Eccetera Di tutto e di più E l'ho usata a Napoli Comodissimo Mi hai convinto? No Sappilo Però Amici del comune Il fascicolo del cittadino Sì Quello è da rivedere Vedi Vedi Su questo Stiamo d'accordo Riprendiamo Con le notizie Segnalando Anche Anche ieri Avevamo parlato Di questa Di questa vicenda Iniziano I vari giornali Locali A titolare Piove In classe Freddo In classe Gelo In classe E anche in questo caso Come dici piove Mi viene in mente Quel film E' arrivato mio fratello Quello con Renato Pozzetto Che entra nella classe E decanta piove Mentre fa piovere lui Con un Nidorante Sulla classe Scusami Questo non c'è Questo non c'è Piove In classe E aule senza riscaldamento Rabbia degli studenti In via San Dionigi In zona Corvetto All'istituto tecnico Statale Sì Lizzos Lizzos Albert Steiner Sì Lo so Dovevo fare quella scuola Poi non l'ho fatta No Lo so benissimo In San Dionigi Sì sì In San Dionigi Dopo Sai che c'è la grande Stato del Cristo In via San Dionigi Se non hai mai visto Non vai a vedere Che è bellissima No c'è una grandissima Stato del Cristo Che è bellissima E un po' più avanti C'è Dando verso Chiaravalle C'è appunto L'istituto Lizzos Una volta si chiamava L'Albert Steiner Esatto L'Ika Steiner Istituto tecnico Statale Appunto In cui Gli studenti Denunciano questa situazione E non è sicuramente L'unica scuola In questi giorni Di Inizio dell'inverno Eh sì Hai ragione Tutti Tutti abbiamo avuto Questi problemi Va bene dai Allora adesso Andiamo avanti con la musica Perché poi Sta per arrivare Il nostro ospite È già arrivato Negli studi Dietro il vetro L'abbiamo visto E quindi fa poco Qui con noi A parlare di mobilità Movità sostenibile Magari chiediamo anche Della app Yes Milano Ma non lo so Ma chiediamo anche se Cosa ne pensa Un classico Loro sono i Luna Pop Ben ritornati a Good Morning Milano Ben ritornati in nostra compagnia 331-7853-555 Il nostro numero di Whatsapp Ma soprattutto Inizia la parte di trasmissione Dedicata all'ospite Giusto Lorenzo? Seconda ora Ora degli ospiti Oggi ai nostri microfoni Abbiamo Federico Delprete Di Lega Ambiente Lombardia Responsabile Mobilità e Spazio Pubblico Buongiorno Buongiorno Esperto di mobilità sostenibile Buongiorno Di mobilità sostenibile Cerchiamo Vediamo di capirci qualcosa Una persona coerente Posso dirlo? Perché ho visto che è venuto in bicicletta Quindi Giustamente Non è così scontato Predicare bene E razionare male È all'ordine del giorno Invece Devo dire che Poi È arrivato Ho visto Nonostante Il friccchio Ma anzi Forse È anche bello Con questo Frescolino Energizza Energizza Sicuramente sì Io settimana scorsa Ho smesso invece Ecco Però All'està in mezzo del mattino Se avessi fatto La stessa cosa In automobile S'era arrivato qui Molto più stressato Sicuramente Con pensieri Più confusi Allora Allora Iniziamo con Federico Delprete Per fare un po' Il punto Chiacchierare un po' Commentare Qualche provvedimento Come si sta comportando Il comune di Milano In tema Appunto Alla mobilità In particolare A quella sostenibile Visto che comunque Insieme alla sicurezza Sono i grandi temi Ma anche come si comportano I milanesi Giustamente Anche noi Parte in causa Credo Giusto Federico Beh sì Quello lì Diciamo che è il punto Fondamentale Poi Diciamocelo molto Chiaramente Cioè L'amministrazione Fa il suo pezzo O perlomeno Diciamo Ci prova E poi però Sono i cittadini Che devono seguire E noi in questo momento Abbiamo un grosso Problema A proposito Di mobilità Molto semplicemente A far tenere Spento Il motore Delle automobili Da fermi Alle persone Non c'è lo start and stop Ecco sì Lasciamo perdere Anche lo start and stop Quindi diciamo che Il pezzo che ci devono mettere I cittadini In generale È un po' Scarso al momento Perché poi È evidente Che se vuoi il cambiamento Come diceva Gandhi Devi essere Il cambiamento Poi c'è qualcuno Che te lo può Volendo Anche imporre Dall'alto Però La cosa fondamentale È che uno poi Deve comunque farla Quella cosa lì E quindi Se per esempio L'indicazione È Equilibrare Tutte le modalità Di spostamento Qual è la Mobilità Sostenibile Io sono 15 anni Che faccio questo lavoro Ancora non l'ho capito Francamente Perché Da una parte Ti dicono Tutte autoelettriche Dall'altra Ti dicono Tutte biciclette Dall'altra Ti dicono C'è la smart city Con l'app Per trovare il parcheggio Però Diciamo che Nessuna di queste cose Se non sei neanche tu Noi alziamo le mani Però diciamo L'idea che mi sono fatto È che La mobilità Sostenibile È quando In una città Si usano Tutte le modalità Di trasporto In un loro Virtuoso Equilibrio Per esempio In questo momento A Milano Siamo abbastanza Equilibrati Cioè Abbiamo Non so Un 38% Di trasporto Collettivo Un 36% Di automobili Private E poi però Tutta la parte Diciamo Di ciclabilità È ancora inchiodata Un misero 7% Siamo fermi Diciamo Un pochino Sotto le due cifre Che ci meriteremmo Tutti quanti E quindi Una ciclabilità diffusa In una città Come Milano È un po' Diciamo Fondamentale Per affrontare Le sfide Non solo Della transizione ecologica Ma anche Come dicevo prima Di stare bene Arrivare Al lavoro Meno stressati Sembra che uno Per andare al lavoro Debbe per forza Correre in automobile Beh insomma Sì D'accordo Non è esattamente così E da quel punto di vista Secondo te Il comune Non sta facendo abbastanza O semplicemente C'è bisogno Di una graduale Trasformazione Della città Ma la graduale Trasformazione Della città A nostro parere Il comune La sta anche facendo Ma all'origine Ci vogliono le leggi Perché siamo In una società civile La società civile Funziona con le leggi Se noi abbiamo Un codice della strada Che è ancora fermo Al boom economico Alla motorizzazione Di massa Non da lì Non ci schiodiamo Il punto fondamentale È questo Quindi in questo momento Direi che più che Il comune di Milano Guardando Alle istituzioni Il tema forte È la riforma Del codice della strada Che vorrebbe fare Il ministro Salvini E che francamente Va un po' In tutta altra direzione Di una mobilità Davvero sostenibile Insomma Una mobilità davvero Sostenibile Spinge anche A livello di investimenti Investimenti importanti Il trasporto collettivo Prima di tutto Perché il futuro È quello E poi dopo Naturalmente Nelle città La ciclabilità Che ci si creda O no Ma questo È il futuro Perché noi Siamo abituati A pensare Alle biciclette Come quelle cose rosa Con scritto Sopra Olanda Con il cestino Con i fiori Però nel frattempo In realtà La tecnologia Ci ha dato Delle spinte Fortissime A essere alternativa All'automobile privata Esistono Delle biciclette Non solo quelle A pedalata assistita Avrete capito Che volevo andare lì Ma anche per esempio Con più ruote Perché per fortuna La legge Non dà Delle definizioni Tipologiche Della bicicletta Cioè non dice La bicicletta Deve essere così Ma dà delle definizioni Solo dimensionali Cioè per la legge La bicicletta È una roba Che è lunga 3 metri e 50 È alta 2 metri e 20 Ed è larga 1 metro e 20 In mezzo Ci può stare Di tutto Un numero Di ruote A piacere Un numero Di persone A piacere Basta che vada A pedali O a pedalata assistita E tra l'altro Ieri abbiamo letto Che la Lombardia Se non sbaglio È prima In tutte le classifiche Di produzione E vendita Di biciclette E-bikes Sì Proprio un segnale Noi abbiamo un'industria Che morde il freno Abbiamo un'economia Che morde il freno Cioè noi potremmo avere Dei benefici Importanti Da una trasformazione Come questa Ma perché Perché Il 77,6 Degli spostamenti Su scala nazionale È inferiore Ai 10 km Ah Quindi il 77% Delle persone Si muove per meno 10 km E nel 68% Dei casi Praticamente Usa un'automobile Ah ottimo Considerando che poi Il 60% Di questo 77,6 È inferiore Ai 2 km Ah E la percentuale Però di utilizzo Di un'automobile privata Rimane lo stesso Anche nell'arco Di 2 km È proprio questo Siamo un po' alla follia Posso dirlo O forse Non ci rendiamo conto davvero Che la città Poi Ieri parlavo con Simone Lunghi Che sicuramente lo conosci Che lui ha dato una buona definizione Di Milano Ha detto Milano È la più piccola Metropoli al mondo Ma siamo una metropole Comunque Effettivamente Siamo piccolini Forse Muoversi anche a piedi Mi verrebbe da dire È pratico In certe zone della città Però Siamo proiettati Verso il voler essere La grande metropoli Allora magari Vogliamo emulare Eh ma abbiamo un concetto Un po' arretrato Di grande metropoli Quello lì Del novecento Per esempio Non so Se vi ricordate Metropolis Un film Degli anni venti Di Fritz Lang Ecco Siamo andati un po' avanti Insomma Non siamo più Da quelle parti lì Andiamo avanti con un po' di musica Poi ritorniamo qui Adesso una piccolissima pausa Due consigli per gli acquisti veloci E poi torniamo sempre qui Con il nostro ospite A parlare appunto Di mobilità sostenibile E di tutto quello che può Migliorare anche In un certo senso poi Speriamo La nostra vita quotidiana Qui nella nostra città A fra poco Andiamo avanti invece Con il nostro ospite Federico Del Prete Che insomma Ci sta raccontando un po' Come La chiacchierata è andata avanti Eh sì I fuori onda E come sempre I fuori onda Sono più interessanti Di quello che diciamo In onda Adesso dobbiamo cercare No però Dobbiamo cercare Di sistemare questa situazione No allora Parliamo appunto Comunque del Allora da una parte Dicevo Federico Anche un po' l'incoerenza Per la volta che c'è Nella Io dico Amministrazione comunale Ma in realtà Non solo loro Un po' tutti Perché comunque Insomma qui devi dare Un colpo alla botta Un colpo al cerchio E' un po' difficile Riuscire a gestire Una situazione Come Soprattutto una città Come quella di Milano Dove chiunque Diciamo tira un po' Dalla sua parte No? Gli interessi sono tanti Come possiamo Pensare A uno spazio Appunto Interessante Veicoli diversi Spazi Eh Veicoli diversi Spazi Adibiti a quei veicoli Lo spazio pubblico Poi per te È un tema importante Immagino Beh sì Come legambiente L'abbiamo voluto Legare Appunto alla mobilità Perché lì È quello Lo scenario Dove si gioca La transizione Non solo ecologica Ma anche energetica Perché la mobilità Ovviamente ha un grosso Impatto Sulle energie Che impieghiamo Quindi è nello spazio Che si gioca Questa transizione Lì a proposito Dell'amministrazione Allora bisogna avere Una visione chiara No? Eh Le città Devono dire Da che parte Vogliono stare Milano lo dice Poi però Come tu Hai introdotto Effettivamente Ci sono dei punti Un po' Di contraddizione E di confusione Insomma Cioè Se noi Ad esempio A fronte Della volontà Di un consiglio comunale Con Diciamo Quasi 40 firmatari Di istituire Una città A 30 km orari Poi Non lo facciamo E anzi Il sindaco Ha più volte Dichiarato Contro la volontà Del suo stesso Consiglio comunale E' chiaro Che quello lì A fronte Di un'immagine Green E sostenibile Di una città Rema un po' Contro Ma forse perché Federico Ho anche raccontato male Perché non so come dire Se mi dici a me Fai la città a 30 Io ti dico Ma te sei matto Esatto Poi mi dici Ma guarda che tu vai a 20 Perché in realtà Passi la metà della giornata A 18 Ecco a 18 Pensa a te Allora dico Quando ho visto Per prima volta Su Via Novara Il bollone 30 all'ora per terra Ma io volevo Andarli a cancellagli Lo con la mia amice Siete matti Proprio ti accorgi Che appunto Più delle volte Quando ti va bene Vai a 35 Soprattutto se il bollone Te lo mettono Su una carreggiata Di 20 metri Quindi tu dici Ma scusa E non c'è magari Nella vietta Che invece entra nel quartiere Ecco esatto Quindi Sì c'è un problema Anche magari Di progettazione Nonostante i tecnici Del comune di Milano Siano abbastanza avanzati Come media nazionale Anzi Tra i più avanzati Sicuramente Perché hanno avuto A che fare Con delle trasformazioni Normative Anche importanti Ma insomma Nessuno la sa raccontare bene Questa benedetta Città 30 Perché effettivamente 30 è un divieto E a noi i divieti Non piacciono Chi si occupa Di comunicazione Non puoi vendere Un divieto Come lo vendi Un divieto Lo vendi Insomma Però Nessuno sta Invece vendendo Cosa permette La città 30 La città 30 È un gigantesco permesso Vendiamolo così Perché se da una parte Tra virgolette Ti fa andare più piano E sappiamo perché È ovvio che con questo livello Di motorizzazione Tu piano Ci vai per forza Stai bloccato nel traffico Come uno stupido La maggior parte Della tua vita Mobilistica Dall'altra parte Invece permette Ad esempio A tutte le età Le abilità E i generi Di stare sicuri Nello spazio pubblico Questo quindi Non è un permesso da poco Cioè Non sono cosette Che diciamo Uno trascurerebbe No? Cioè I bambini Possono di nuovo Giocare per strada Come la mia generazione Per esempio I anziani Non hanno paura Di essere investiti E quindi Possono stare di più Con i bambini Le donne hanno indipendenza E autonomia Abbiamo visto Quante vittime femminili Ci sono state In questi ultimi mesi Lo sappiamo bene Che cosa vuol dire Quella cosa lì È una domanda Di autonomia E di indipendenza Che non è stata Tutelata Nella mobilità Ma anche Diciamo come Cogliere opportunità Di lavoro Di studio Tutte quelle persone Tutte giovani Con figli piccoli Noi dobbiamo considerare Queste cose Quindi Quando Stiamo contro Sui social Nelle chiacchiere Da bar A un provvedimento Così importante Per tutte le città Amica solo per Milano Come città Trenta È forse un pensierino A marcia indietro Dovremmo un po' farlo La narrazione Io come dico sempre La narrazione Su queste vicende Che sono comuni A tutti Cioè tutti abbiamo Comunque A cuore Siamo sensibili Su questi temi La narrazione Poi ti porta A prendere Una parte Piuttosto che l'altra E questo è il grande E questo è il grande rischio Perché poi alla fine Non si va avanti Sì sì Sicuramente Pensa che anche Obama Si è espresso Nei scorsi giorni Proprio su questo tema Sul fatto che dobbiamo Smetterla Di schierarci come tifoserie Ma schierarci invece Come collaborazione Alle idee Perché effettivamente L'idea di Volere o no La città 30 Può essere Che sono favorevole O contrario Ma l'idea di avere Una città Dove posso camminare Sereno sul marciapiede E non farmi tirare sotto Dalla primo camion Che passa Insomma Quello siamo tutti d'accordo Quindi Quello potrebbe essere Il punto di partenza E raccontare poi E cercare Di arrivare A delle soluzioni Insieme Magari Si arriva Si fa soltanto insieme Il cambiamento Non si fa da soli Questo è evidente Ma penso anche Recentemente Ai vari titoli Sulle macchine Non entreranno Più in centro Le macchine Che poi non era Neanche vero No Sono tre vie Sono tre vie Però la narrazione È quella Uno lo vede Ed è chiaro Che poi è indisposto Mentre è in fila Sulla circomanazione Ovvio Circomanazione che magari Potrebbe un giorno Diventare il confine Della C Invece magari Potrebbe diventare Una foresta lineare Cioè Abituiamoci A pensare In grande Bella idea Sì Ok Allora Questo è già Ovviamente successo Ci sono città Dove i cavalcavia Le tangenziali Sono state rimosse Di peso Per far strada A spazi verdi E fiumi Cioè Non è fantascienza È già successo In molte città Sta girando in questi giorni Utrecht Se non mi ricordo male Che ha tolto una tangenziali Ci ha fatto un canale Esatto Sta girando in questi giorni Una foto Quindi non è che Le nostre città Se noi le vediamo così Devono rimanere per forza così Cioè Si comincia appunto Con dei provvedimenti normativi Perché ripeto Siamo in una società civile Non in un far west E con quello Poi si costruisce Un futuro diverso Ma diverso per tutti però Non soltanto per alcuni Perché poi queste cose Uno dice Eh beh Sono i ciclisti Ma i ciclisti chi sono? Un domani potresti essere Anche tu il ciclista Io sono Esatto Io sono un ciclista Ma io non mi considero Un ciclista Sì faccio 20 km al giorno In bicicletta Vivo in Amendola Il nostro ufficio è in Turro Se non ho altri appuntamenti Sono 20 Proprio in Amendola Dove c'è la peggior ciclabile Della storia di Milano Che è Una diattrima pazzesca La peggior Diciamo Una ciclabile Veramente un po' sfortunata E anche forse Un po' sovradimensionata C'è a dire però Insomma Antelitteran però E forse La prima ciclabile cittadina Da città Tra le prime Non erano ancora Proprio esperti Adesso stanno completando Il tratto Amendola Lotto Che è Stato fermo Poi appunto L'azione amministrativa È complicatissima Guardate Avere a che fare Io sono anche Nella consulta Cittadina Per la mobilità Attiva E l'accessibilità È un organo Consultivo Del comune di Milano E capiamo Quanto è complesso Per un'amministrazione Fare Il muretto Lì Oppure L'asfaltino Qua Cioè È complicativa Una cosa complicatissima Federico E poi tu mi dici Appunto Di pensare in grande Pensare Sognare in grande Dallo smontare Una tangenziale Smontare un punto E poi veramente Non si riesce proprio A fare il muretto Hai ragione Come facciamo Hai ragione Cioè non è che non si riesca Cioè entro Devo entrare con un bulldog Si riesce ma con Dei tempi biblici Che ovviamente Non aiutano Diciamo Eh perché Noi abbiamo Un sistema Amministrativo Un po' farraginoso Perché a monte Abbiamo poco Senso civico E quindi Diciamo Fatta la legge Trovato l'inganno Le persone magari Vogliono pagare meno tasse O non vogliono Pagarle per niente Vogliono fare i lavori In un certo modo Invece che come legge Prevede E quindi Siamo un paese Un po' complesso Ma diciamo Che poi In una realtà Globalizzata Tendiamo Forse a migliorare Anche non solo A peggiorare Da questo punto di vista Ci dobbiamo mettere Tutti a un grosso impegno Mi piace La positività Di Federico Mi dà speranza Ecco Faccio una piccola Provocazione Allora la soluzione Potrebbe essere Disegnare la ciclabile Di notte Sul ponte della Chisolfa Beh quella È una cosa Che esiste In tutte le città Del mondo Gli attivisti Fanno Questo genere Di lavoro Sono Il ciclo pop Si chiamavano Una volta E cioè Quelle dove Si danno Delle indicazioni Molto precise All'amministrazione Su dove Una ciclabile Contestata O meno Dovrebbe essere Ovviamente È un comportamento Insomma Discutibile Per certi versi Anche perché Impatta sulla sicurezza Delle persone Perché ovviamente Se tu fai Segnaletica Abusiva Quello lì Impatta Sulla Sicurezza Delle persone Beh però Dobbiamo chiederci Se impatti Magari Positivamente Anche sul Dibattito Pubblico Per esempio È lì Il ponte La Chisolfo È un nervo scoperto Il comune Ci ha messo Diversi soldini E quindi Prima o poi Lo risolveremo Ma Nel frattempo Cosa facciamo? Come le lasciamo Le persone Su quel ponte? Lì ci sono Delle scuole Ci sono Dei papà Che portano I bambini In bicicletta E quindi Dobbiamo Nel frattempo Garantire La sicurezza Con Per esempio Dal mio punto di vista Dal nostro punto di vista Anche con gli strumenti Che l'amministrazione Già ha Io sono Ente proprietario Delle strade E per motivi Contingibili Urgenti Ad esempio Il rischio Che le persone Corrono lì Ok Io posso Fare Variazioni Di viabilità E circolazione Quindi Segnaletica Da cantiere I cartelli Attenzione Andate piano Restrizione Della carreggiata Poi lì c'è il TPL Sappiamo C'è la 90 Che passa E quindi Ci sono Diciamo Sovrastrutture Di problemi Che vanno avanti Nel frattempo Bisogna comunque Garantire Una sicurezza Alle persone Quindi Ghisolfa Nervo scoperto Di tutta questa 90 91 Che tagliano La metà Tutta la carreggiata Perché si passano Dalla Per consiglio preferenziale Sul lato destro Invece Della carreggiata Andiamo con un po' di musica Poi torniamo sempre qui Con il nostro ospite Cristo Radio Good Money Milano Money Skin The Loneliness Ma noi non siamo soli Invece Noi non siamo soli Io soprattutto Diciamo a chi A Milano Cerca di cambiare le cose O cerca Di vivere la città In una maniera Diversa Da come viene dipinta La modalità normale Tra virgolette In cui dovremmo vivere Perché poi in realtà Io credo che Milano La cosa più bella di Milano Sia che ognuno Se la può vivere un po' Come cavolo gli pare Questa città Ci dà la possibilità Di vivercela Davvero un po' Come cavolo ci pare Per fortuna Ovviamente Nel rispetto Dell'altrui E delle regole Ovviamente Insomma A Milano si vede qualcosa Di strano Però per fortuna Rimane solo La stranezza Prego Lorenzo So che punto Stavate chiacchierando Anche fuori onda Stavamo parlando Della Mille Mila Bici Grande iniziativa Prima edizione Di questa iniziativa Prima edizione Ma in realtà Milano ha sempre avuto Delle grandi pedalate cittadine Penso a Bici in festa Di primavera di FIA Bella Milano Che pedala di turbo Lento Ciclo Pride Day Ma poi cos'è successo E' successo Non ha nominato Critical Mass Come mai Federico Beh perché Critical Mass Non è una grande Pedala della cittadina Se non è la Ciemona Cioè La parte Ricordiamo Critical Mass Milano È l'unica Al mondo Ad essere settimanale Sì Piazza Mercanti Invece gli altri Di solito Sono una volta al mese E questo mi fa capire Quanto bisogno Poi ci sia Di essere il traffico Come dice Critical Mass Ah giusto Ecco allora Mille mila bici Il problema delle grandi pedalate cittadine Che costano Costano un sacco di soldi Però lì dove è il coinvolgimento Costano Perché c'è la polizia locale L'AMSA Blablabla L'ATM Lì dove è il coinvolgimento Dell'amministrazione Investe così tanto In ciclabilità E poi non ha un evento Dedicato Alla ciclabilità Ogni anno Un appuntamento fisso Del comune Del comune di Milano Noi di Lega Ambiente Ci siamo detti Questa cosa Non funziona C'era una Milano Bike City Una delle tante city Delle tante week Ma ha fatto solo due edizioni Perché poi i fondi Sono stati Diciamo Tolti Sono stati messi Sull'app Yes Milano Non lo so E quindi abbiamo chiesto A quattro assessorati Di aiutarci un po' A risolvere questo problemino Insomma Questa evidente contraddizione E diciamo Poi ci siamo riusciti E quindi adesso Stiamo addirittura pensando Di fare due appuntamenti l'anno Perché Quell'immagine iconica Del ponte della Chisolfa Cavalcavia Monteceneri Come vogliamo chiamare Un chilometro e settecento metri Di ciclisti Su un cavalcavia Normalmente Congestionato Di traffico motorizzato E Ora lì Un'immagine finita Sulla copertina Del PGT di Milano Del piano di governo Del territorio Quindi insomma Diciamo un po' breccia L'abbiamo fatta Però noi dobbiamo fare Mille e mille bici Tutti i giorni Perché ripeto Una città così avanzata Così evoluta Così Che dovrebbe essere Così attrattiva Avere questo livello Di motorizzazione Milano A 495 automobili Ogni mille abitanti Ma arriviamo Alla cifra Spaventosa Di un'automobile Per abitante Quando poi Sappiamo Le 800.000 automobili Che entrano ogni giorno Ed escono Come un respiro Omefitico Da questa città Fanno Fanno salire Questa percentuale Cioè In questo momento L'Italia È il paese Più motorizzato D'Europa Ma pensiamo Al Giappone Come dicevi tu prima Raccontami un po' Della tua vacanza Dove poi Dici ma che razza Di posto è Questo dove Non puoi parcheggiare Da nessuna parte È un posto Fatto per le persone Non per le automobili Ed è un paese Che ha Un'elevatissima Industrializzazione A base automobilistica Quindi Dove sta Il tema Dell'economia Il tema Dell'economia Sta nel Non volere Le automobili Nelle città Su tutto il resto Sui territori Ci possiamo anche Riflettere Se non bastasse Un trasporto collettivo Degno di questo nome Perché ripeto Il futuro è quello Però Intanto Noi abbiamo bisogno Proprio di Demotorizzazione 672 automobili Ogni mille abitanti In Italia Sono troppe Non ce n'è 495 A Milano Sono troppe Dobbiamo arrivare A 300 E anche con il nuovo Pacchetto di provvedimenti Che si vanno Aggiungere A quelli Già in vigore Di Area B Comunque si legge Che i numeri Non si abbassano Più di tanto E ma certo Perché se Area B È un collaboroto Perché è piena Di deroghe È evidente Che ha un'efficacia Molto inferiore Alle aspettative E agli investimenti Area B Si fa Indovinate un po' dove Si fa sul suolo Non si fa Con gli ingressi Cioè si dice Tu non puoi Parcheggiare La tua automobile Se non ha Determinate categorie Ecologiche Ma non se lo inventa La lega ambiente Ci sono intere città In Europa Che funzionano così Tu devi Giustificare Ad Amsterdam Perché vorresti Mai Parcheggiare Per strada Cioè Un'automobile Vorrei Parcheggiare Per strada E loro ti chiedono Perché Qual è la motivazione Che ci dai Quando gliela dai Sono dai due Ai quattro anni Di lista di attesa Quando è finita La lista di attesa Paghi Da residente Quindi questa cosa qua Ancora da noi Il fatto che Il suolo Lo spazio pubblico Sia un bene comune Non è ancora passata No Noi siamo abituati Che fuori la porta Di casa Non del portone Di casa Già proprio quella Di casa Ok È terra di nessuno Dove si può fare Quello che si vuole Sempre e comunque Beh Questa cosa Dobbiamo un po' Recuperarla Perché altrimenti Non andiamo avanti Ragazzi Eh beh Eh sì 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 E allora Siamo arrivati alla fine Però Siamo arrivati alla fine Dobbiamo ringraziare Il nostro ospite Ringraziamo Federico Del Preto Grazie a voi Per essere stato con noi Abbiamo chiacchierato tanto E Chiacchierato a piena Di spunti e riflessioni Eh bene Sì Grazie mille Allora Federico Spero di rivirti qua Ospite Perché i temi sono tanti E caldi E interessanti Soprattutto Quando poi c'è qualcuno Che te li spiega così bene Come hai fatto tu Grazie mille davvero Federico Volentieri